Musica Ciao buonasera, come ti chiami? Plecene Veronica Stasera Blu Notte perché? Perché mi diverso molto qui Allora invitiamo gli amici a casa a venire A tutti quanti perché qui si dica sempre Un saluto agli amici di Neve Neve Ciao Ciao, come ti chiami? Cinzia Cinzia, questa sera è il Blu Notte, ti stavi scatenando No, è sempre così È la prima volta che vieni? No, è sempre meglio Sempre Salutiamo gli amici di Neve Neve, un vaso, invitiamoli Eh sì amici di Neve Neve, se vi capita qualche volta di venire qui al Blu Notte Passerete sicuramente di qui, guardate, vi fermerete Soprattutto a guardare questa bella ragazza Vi state chiedendo chi è, glielo domandiamo Buonasera, come ti chiami? Ciao, sono Giulia Giulia, che cosa fai tu all'interno del Blu Notte? Eh, lavoro Vogliamo dire che cosa fa il compito più difficile del mondo, contare soldi Era? No, non scherzare Non è difficile, assolutamente Cosa ti capita di vedere? Persone che vanno da qual'età? Di tutto, di tutto Quindi significa che il Blu Notte ci si diverte Certo, per tutta l'età, ovviamente Un saluto agli amici di Neve Neve Neve, venite al Blu Notte Un bacione a Neve Neve, venite al Blu Notte Ciao Ciao Questa sera appunto una serata al massimo del divertimento Si riconferma una appunto delle serate più belle del Salernitano Il Sabato del Blu Notte oramai è una conferma È una garanzia Ognuno ci raggiunge qui il sabato per divertirsi E noi facciamo il nostro meglio per far divertire la gente Una splendida console, quella di Pino Muzio con la tua voce Che cosa vogliono di più? La mia voce è la musica di Pino Muzio I nostri collaboratori che sono bravissimi Dai barman alla cassiera Ai camerieri, alla sicurezza Voglio ringraziare tutti perché questa è un'estate che sta andando alla grande Allora, veramente una bella grande famiglia Quella del Blu Notte Non ci resta che salutare gli amici di Night and Day Nonché prima di invitarli qui al Blu Notte Salutiamo gli amici di Night and Day Invitiamo a venire qui al Blu Notte di notte e di giorno Ci trovate sempre qui Ciao, un bacio Comportati dal vento Chiedermi dove si va E se non chiedermi dove si va perché io ti rispondo subito Questa sera, sabato sera vado al Blu Notte E che ti incontro Pierpaolo, buonasera Ma stasera è un'uforia totale Gente da tutte le parti E ci dispiace se non sappiamo più dove mettervi La capienza, quant'è la capienza di questo locale? Siamo che ci vanno 2000 persone Quindi siamo 1500 Mi raccomando gli altri 500 Affrettatevi E i numeri qui al Blu Notte Sabato dopo sabato salgono sempre Però parliamo del sabato Perché questa sera appunto Sabato sera ma gli altri giorni della settimana E pure è delirio totale Diciamo che il venerdì dal 3 Cominceremo il venerdì 3 agosto Rosario Miraggio in concerto A seguire 10 agosto Notte di San Lorenzo Cabaret di Marco Cristi A seguire discoteca Poi 14 Vigile di Ferragosto 15 Ferragosto Con schiuma party E fuochi a mare Che cosa volete di più? Cosa vi dobbiamo dare più? Ma sì Che cosa devono inventarsi più Lo staff qui del Blu Notte Allora per il palo appunto Abbiamo parlato di quello che è venerdì E il sabato Parliamo invece Di quanto è polivalente questo locale Allora a parte Questi eventi che ho detto E tutti i sabati Siamo aperti anche la domenica Con balli di coppie Di gruppo E discoteca Donne solo 3 euro Compresa consumazione Uomo 5 euro Compresa consumazione Queste sono le nostre serate In discoteca Disponibili anche per tutto Tutti i generi di feste private E il locale è molto polivalente Perché si comincia con Il Lido la mattina Il ristorante il pomeriggio Il bar aperto H24 Il ristorante anche aperto H24 E l'albergo Per quelle poche camere Che rimangono Dove c'è Giodia Ad accogliervi C'è Giodia Ad accogliervi E siamo sempre a disposizione Siamo sempre a disposizione Siamo a nostra completa disposizione Uno staff Veramente Efficiente Quello del Blu Notte Appunto abbiamo parlato Di quelle che possono essere Feste private Come in passato Magari c'è capitato Di incontrare Addie Al nobilato Al celibato Sì Qui facciamo Tutti i generi Di feste private Perché essendo un locale Polivalente Con varie sale Con vari generi musicali Con varie tipologie di pubblico Possiamo accontentare Tutti i gusti Dei festeggiati E tutti i gusti Dei nostri clienti Quindi Non resta che dire Venite tutti al Blu Notte Venite tutti al Blu Notte E per coloro Che ancora non sapessero Dove si trova Questo fantastico locale Vogliamo ricordarlo Io penso che ormai Ci conoscono tutti Litorane A Magazzello Salerno Nei presti Dei principali Lidi Di Monte Cagnano Isla Bonita Dolce Vita Quadrifoglio E quant'altro E quant'altro E quant'altro Allora Non ci resta che salutare Gli amici di Nighting Day Ma prima E invitiamoli a venire Qui Blu Notte Dicendo che cose Dicendo le tre paroline Oramai magiche Diciamo sempre Da noi Solo da noi Il cielo è sempre più blu Ciao